Bella, bellissima, carismatica, dallo sguardo magnetico e un sorriso irresistibile. I suoi sono gli occhi più verdi di Hollywood e i suoi personaggi sono iconici, carismatici e scolpiti nella storia del cinema. Lei è l'indimenticabile eroina di Via Colvento, Rossello Ara, un'attrice straordinaria ma anche una donna che ha tanto sofferto, specie negli ultimi anni della sua vita. Benvenuti a The Hollywood Boulevard, oggi vi parlo di Vivian Leigh. Vivian Leigh nasce il 5 novembre 1913 a Darjeeling in India, nella regione del Bengala, figlia unica di Ernest Hartley e Gertrude Robinson, che gli dedero il nome di Vivian Mary Hartley. Il padre era un ufficiale della Cavalleria Britannica, distanza in India. I Hartley vivevano in una bellissima casa piena di domestici che gli servivano e riverivano. Vivian, nei pochi anni vissuti in India, ha avuto un'infanzia serena. Era una bambina molto vivace, dormiva pochissimo ed era sempre piena di energie e voglia di fare. Aveva inoltre una personalità molto spiccata, ma era anche particolarmente viziata. La madre, grande appassionata di teatro, era un'attrice amatoriale. Vivian ebbe il suo battesimo di scena all'età di tre anni. Ma quella felicità, ahimè, non durò molto, perché a soli sei anni tutto il suo mondo cambiò. I suoi genitori decisero che avrebbe studiato in Inghilterra affinché ricevesse un'educazione tipicamente britannica. Niente però l'aveva preparata a quello che sarebbe stato il primo grande trauma della sua vita. Immaginate di nascere e crescere in un posto pieno di colori, profumi, un posto caldo, un posto che chiamate casa e dall'oggi al domani finire in un paesino freddo, umido in Inghilterra, dove non conoscete nessuno e dove tutto è dello stesso colore, grigio. Sarebbe un trauma per tutti, ma per Vivian un po' di più, perché la madre, non appena arrivata in Inghilterra, la spedisce a Roampton, un collegio cattolico per sole e ragazze, gestito da suore. In quel luogo umido, freddo e senza colore, Vivian si trova malissimo, anche perché è la più piccola del gruppo di ragazze del college, più emarginata e anche l'unica che ha i genitori lontano dall'Inghilterra. I suoi Natali sono tristi e monotoni, trascorsi con le suore perché le compagne sono tutte vie per le vacanze. Il primo Natale trascorso in collegio è molto triste per Vivian. E per alietarlo un po', la madre superiore le regala un gattino, le viene anche concesso di portarla a letto con lei. Un bel gesto, sicuramente, ma che non mitica la sua solitudine. Gli inizi della vita di Vivian, quindi, non sono entusiasmanti, Ma c'è una piccola scintilla che brilla negli straordinari occhi verdi della ragazza, il fuoco sacro dell'arte. Vivian è bellissima e ama recitare, ed è così caparbia che fa di tutto per riuscirci. In pochi anni diventa la più popolare della scuola, e quando si tratta di votare la più bella, la più talentuosa, la più carismatica, lei vince a mani basse. Nel 1927 i suoi genitori tornano in Inghilterra. La famiglia si ricongiunge e insieme viaggiano per tutta l'Europa, frequentando gli hotel più lussuosi. Poi, però, arriva la crisi del 29, che non risparmia niente e nessuno, neanche quelli con il conto in banca più sostanzioso. Anche il padre di Vivian viene investito dal crack, e la famiglia si ritiene nelle campagne di Devon, dove conducono una vita modesta. Vivian, però, è ormai un'adolescente, e scalpita per scappare via da quella terribile monotonia. È troppo vivace, troppo viva, per accontentarsi di vivere in quel modo così semplice. A quel tempo, però, per le ragazze, l'unico modo per fuggire dalle proprie famiglie di origine era quello di sposarsi, e Vivian non si sottrae a questa legge scolpita nella pietra. A 18 anni incontra quello che sarebbe diventato il suo primo marito, e che aveva conosciuto in un modo un po' bizzarro. Leggenda narra che Vivian non lo abbia incontrato mentre camminava per strada. Lui era in sella a un cavallo, di ritorno da una battuta di caccia, e indossava un vistosissimo cappotto rosso. Anche lui la notò, al punto di fermarsi e salutarla togliendosi il cappello. Vivian rimase affascinata da questo ragazzo, e indagando qua e là scoprì che si chiamava Herbert Lee Holman, ed era un giovane avvocato. Vivian, con il solito piglio deciso, pare abbia esclamato, oh è così bello che voglio sposarlo. Peccato che Lee fosse già fidanzato, ma per Vivian non fu affatto un problema, aveva deciso che lo avrebbe sposato, e niente l'avrebbe fermata. Infatti Lee dopo un po' rompe il fidanzamento e i due si sposano nel dicembre del 1932. La vita da donna sposata però non le impedì di perseguire le sue ambizioni, e soprattutto non aveva alcuna intenzione di sistemarsi e diventare una tranquilla moglie di provincia. Ecco perché, ancora prima di sposarsi, il padre le offrì la possibilità di iscriversi alla Royal Academy of Dramatic Art, dove venne ammessa poco prima di conoscere il marito. Lee ci provò a imbrigliare Vivian, al punto da chiederle di lasciare l'accademia, ma non aveva alcun potere su di lei, che dritta come un treno inizia a seguire le lezioni in accademia con grande impegno e disciplina. Nell'ottobre del 1933 mette al mondo la sua unica figlia, Suzanne. La maternità per Vivian però non è quell'esperienza entusiasmante che credeva. Pensate che nel suo diario scrisse solo un laconico, o avuto una bambina, senza neanche menzionare il nome della piccina, un fatto come un altro ecco, e per quanto in realtà amasse la figlia, non riuscirà mai a mettere da parte le sue ambizioni. Vivian assunse una tata da portare con sé alla Royal Academy, affinché si occupasse di Suzanne, con enorme disappunto del marito, che per quanto ci provasse non sarebbe mai riuscita per trasformarla in una perfetta moglie e madre. Nel 1934 Vivian iniziò ad essere scelta per qualche ruolo minore. A quel punto fu pronta ad assumere un agente, che come prima cosa le suggerì di cambiare nome. Vivian avrebbe voluto chiamarsi Vivian Helmond, assumendo il cognome del marito, ma alla gente non piacque affatto, e rilanciò con un altro nome ancora più improbabile, April Morn, che Vivian bocciò totalmente. Alla fine di lunghe trattative scelsero come nome d'arte Vivian Lee, usando il secondo nome del marito come cognome, e cambiando il nome da Vivian a Vivian. Il 1935 è l'anno del suo vero debutto come protagonista di una piece teatrale di grande successo, La Maschera della Virtù, di Ashley Dukes, che debutta al St. James Theatre di Londra il 15 maggio 1935. La piece fu un trionfo, e il giorno dopo la prima tutti parlavano di lei, della nuova stella del teatro londinese. Scrive il critico Wilson dalle pagine della rivista Star. La signora Lee è incredibilmente bella, ma non importa perché il suo talento è guai alla sua bellezza. Ella si muove con grazia, la sua voce è attraente, e non manca calore, ardore e sincerità nel suo recitare. Sì, non c'erano dubbi, era nata una stella. Alle numerose repliche della Maschera della Virtù, un giorno capita anche un attore, anzi, mi correggo, l'attore Lauren Solivier, quello che sarà il più grande amore della sua vita. Di quella prima volta che la vide, dirà. Al di là della sua bellezza, che era magica, aveva un portamento meraviglioso, il collo sembrava quasi troppo fragile per sostenere la testa, e la reggeva con un senso di sorpresa, e con quella specie di orgoglio del giocoliere, che riesce a far sembrare quasi casuale un'abile mossa. L'attore, dopo lo spettacolo, andò dietro le quinte per congratularsi con lei. Ma quello non fu il loro primo incontro. Sì, perché qualche tempo prima, in un altro teatro, su un altro palcoscenico, c'era lui, e Vivian era tra il pubblico. All'amico che era con lei disse, questo è l'uomo che sposerò. E quando il suo amico le fece sommessamente notare che fosse già sposata, Vivian lo ignorò totalmente, e anzi, dopo lo spettacolo, sgattaiolò nel suo camerino, si presentò all'attore, e prima di andarsene, lo baciò delicatamente sul collo, lasciando il povero Olivier totalmente annichilito dalla sua intraprendenza. Un'intraprendenza quella di Vivian, che andava a braccetto con la sua spietata ambizione. Ma che fu la chiave del suo successo? Quella ragazza minuta, straordinariamente bella, Olivier non se la tolse più dalla mente. Nel 1935, Laurence Olivier non era ancora il grande attore che sarebbe diventato nel futuro, anzi, il più grande della sua generazione. A quel tempo aveva solo tanto talento, una moglie, Jill Esbon, anche lei attrice, e un figlio in arrivo. La gelosissima Jill, però, non aveva idea che una giovane Vivian Lee stesse cercando in tutti i modi di avvicinare il marito. Ma lo scoprirà presto. Vivian riuscì a sapere che la famiglia avrebbe passato le vacanze a Capri, e fece in modo di trovarsi anche lei a Capri negli stessi giorni, insieme a un amico di famiglia, come copertura. I quattro si ritrovano così insieme. Jill dopo un po' mangia la foglia, anche perché il marito le sembrava disperatamente in colpa. Vivian, invece, per niente, fresca come una rosa. Il suo biografo la definirà una Rossello Aran tarda, prepotente e risoluta. Quella vacanza sarà il preludio di una delle storie più belle e tormentate della storia del cinema. Nel 1937 ha inizio ufficialmente la loro storia, seppur clandestina. Sì, perché il destino ha voluto che i due si ritrovassero insieme sul set della regina d'Inghilterra. Entrambi ancora sposati inizieranno una convivenza contrastata da Jill che deciderà di vendere cara la pelle. Ma la storia d'amore continua contro tutto e tutti, mentre sul pieno della recitazione i due iniziano un fantastico sodalizio. Ad Olivier viene affidata la regia dell'Amleto e ovviamente sceglie Vivian per il ruolo sofferto e tormentato di Ophelia. Dopo il tour, i due ufficialmente lasciano i propri partner e iniziano le pratiche per il divorzio. In quella tournée, però, accade qualcosa. Vivian comincia a mostrare i primi segni di un disturbo dell'umore che le verrà diagnosticato solo negli ultimi anni della sua vita, la sindrome bipolare. La leggenda attorno alle intemperanze di Vivian Lee probabilmente ha come spiegazione proprio questo disturbo. Ma per anni, ad Hollywood, si parlerà di lei in termini orribili. Si diceva fosse una guastafeste, viziata, prepotente e isterica. E deve averlo pensato anche Lorenzo Olivier perché un giorno Vivian, senza una ragione apparente, aveva invito contro di lui insultandolo e denigrandolo di fronte alle maestranze e il resto del cast. Poi si era calmata di colpo e aveva iniziato a fissare il vuoto. Il resto della giornata era proseguito normalmente, come se niente fosse accaduto. La loro storia d'amore in un'Inghilterra estremamente puritana fu un atto di coraggio notevole, dettato però da vero amore. Anche perché lasciando Herbert Lee, Vivian rinunciava a tutti gli agi e i lussi che il marito benestante le garantiva, oltre che una solida e stabile relazione senza scossoni, che è forse la cosa che Vivian soffriva maggiormente. Mentre Olivier, come attore di teatro in erba, seppur pieno di talento, non poteva garantirle lo stesso tenore di vita, ma in quanto a passione e tormento, non era seconda a nessuno. Ma Vivian su quella relazione scommette tutto e soprattutto scommette sulla sua carriera. Per questa ragione prova a cavalcare il clamore attorno alla loro storia. Le riviste se la contendono e Vivian è ben felice di mostrare a tutti la loro romantica storia d'amore. Questo aumenta l'alone di fascino attorno alla coppia, in me che non si dica la loro relazione assume i contorni del foglietton ottocentesco. Passione, amore, tormento. Tutti a Londra vogliono una storia d'amore alla Lee Olivier. Dalle pagine dei magazine Vivian mostra il loro nido d'amore, un delizioso cottage arredato con raro gusto dalla stessa Vivian, appassionata di interior design. Vivian e Lawrence però erano molto diversi, molto più mondana a lei e con un senso di ciò che accadeva intorno a lei molto più sviluppato di quello di Olivier, genio assoluto del teatro ma con scarso interesse per altre cose che non fossero la recitazione o la lettura dei classici. Il 1938 è l'anno del debut hollywoodiano di Lawrence Olivier che viene scelto per interpretare Heathcliff nell'adattamento cinematografico di Cime Tempestose. Vivian invece è impegnata in un tour teatrale a Londra ma gli arriva la voce che ad Hollywood stavano cercando la protagonista di un nuovo film tratto da un libro della scrittrice americana Margaret Toggià la nostra eroina a caparbietà non era seconda a nessuno decise quindi che quella parte saprei proprio immaginare una rosselloara diversa da quella interpretata da Vivian Lee ma come arriva l'attrice britannica ad interpretare un'eroina degli Stati Uniti del Sud? Tutto ha inizio con la massiccia campagna pubblicitaria lanciata dal produttore David Osezny che letteralmente sguinzaia i suoi per trovare la protagonista ideale una perfetta ragazza del Sud e i provini si presentano in 1400 tra di loro anche alcune delle più promettenti attrici di Hollywood un nome per tutti Bette Davis leggenda narra che l'attrice di Eva contro Eva volesse disperatamente il ruolo di Rossella Osezny fu lì lì per ingaggiarla ma poi la Davis litigò pesantemente con Harold Flynn che avrebbe dovuto interpretare Red Butler ed entrambi vennero cassati la Davis famosa per le sue intemperanze non era gradita alla Warner che avrebbe dovuto produrre film ma che poi non produrrà mai anche se fino all'ultimo rimase in ballo insieme alla stessa Vivian Lee e un'altra attrice Paulette Goddard Bette Davis ci rimase malissimo ma si prese la sua rivincita interpretando Isabel una ragazza del sud come Rossella ruolo per cui vinse anche un Oscar anni dopo racconterà di non essere riuscita a guardare via col vento per intero perché alla scena del ballo era uscita dal cinema furente anche Vivian bramava quel ruolo e chiese al suo agente di segnalarla house Elsnick e non fu complicato farlo perché la gente della Lee è Elsnick fratello di David Myron non era così interessato a segnalare al fratello un'attrice semi sconosciuta e per giunta inglese ma si è preso un pomeriggio per guardare i film dove Vivian aveva recitato e rimase folgorato dalla bellezza dell'attrice ma anche dalle sue innate doti recitative Myron e Vivian si incontreranno a Los Angeles dove l'attrice si trovava per stare vicino Olivier nell'ottobre del 1938 Myron dal vivo la trovò ancora più magnetica Vivian poi aveva una caratteristica particolare quando sorrideva le venivano fuori delle fossette deliziose quel sorriso malizioso e lo sguardo fiero e quel sopracciglio che raggiungeva l'infinito via col vento di cui intanto erano iniziate le riprese durante la scena dell'incendio ad Atlanta o Selznick che non aveva idea che il fratello stesse venendo sul set vide arrivare Myron insieme a questa ragazza vestita con degli abiti di scena dai capelli bruni la pelle di afana e gli occhi più verdi che avesse mai visto Myron gli mise una mano sulla spalla ed esclamò ciao genio ecco la tua rossella David ne rimase estasiato anzi più la guardava più la trovava la personificazione della mitica rosselloara o almeno come se l'era immaginata lui il suo provino poi fu formidabile Vivian sembrava nata per interpretare quel ruolo c'era solo un piccolo problema Vivian si esprimeva in un formalissimo accento britannico niente a che vedere con la parlata strascicata tipica del sud degli stati uniti questo per un po' fece vacillare Oselznick al punto che lanciò una sorta di referente Godard l'altra illizza per il ruolo e la Lee tutti scelsero la Lee all'unanimità con qualche perplessità da parte dei nostalgici sudisti che alla fine però decretarono meglio un inglese che una Yankee Vivian si preparava a interpretare il ruolo più iconico della storia del cinema Vivian sul set è una macchina da guerra e insieme a un insegnante studia con disciplina e rigore la tipica cadenza della Georgia dove era ambientato il film in poco tempo si trasforma in una perfetta ragazza del sud ma il set è anche soprattutto una spina nel fianco per lei l'attrice è costretta a indossare per giornate intere pesantissimi costumi di scena sotto le caldissime luci del Technicolor che emanavano un calore insopportabile per giornate intere che comprendevano anche la notte per quanto avesse agognato il ruolo alla fine delle riprese l'attrice è totalmente prosciugata sia mentalmente che fisicamente anche perché Vivian era presente quasi in ogni scena durante le pause tra una scena e l'altra la lì fuma una sigaretta dietro l'altra arrivando a consumare fino a 4 pacchette al giorno mentre studia la parte ossessivamente in realtà le riprese di via col vento furono dissastrose anche per il resto del cast per la troupe i guai iniziarono a partire dal regista del film anzi dai registi il primo a essere ingaggiato fu George Cukor regista del film A Star Is Born sue sono le riprese dell'incendio di Atlanta girato alla MGM Studios un incendio vero dove vennero bruciati i vecchi set dismessi ma che era talmente grande che le persone attorno alle colline di Hollywood chiamarono in massa i pompieri temendo che la metro Golden Mayor stesse andando a fuoco Cukor venne fatto fuori quasi subito ufficialmente perché aveva preso altri impegni ma ufficiosamente perché apertamente omosessuale al suo posto venne ingaggiato Victor Fleming che stava già girando il mago di Oz e che a causa dei suoi frequenti crolli mentali fu sostituito in alcune scene da un terzo regista Sam Wood Ozelsnik poi era un vero despota sul set se qualcosa non gli andava bene rompeva sulla scena discuteva ogni singola scelta con il regista che praticamente non aveva voce in capitolo e continuava a licenziare tutti o a far rifare le scene che non gli piacevano perché troppo finte o troppo scure ma non solo la sceneggiatura veniva costantemente rimaneggiata anche a pochi minuti dalla scena prevista costringendo gli attori a rivedere le battute poco prima del Chuck come è facile prevedere via col vento sfora pesantemente il budget previsto e poi c'era anche la questione del co-protagonista il mitico Red Butler interpretato dal navigato attore Clark Gable sul set i rapporti fra Clark e Vivian non erano dei più sereni non è chiaro se si detestassero l'apertamento o se in qualche modo avessero poi trovato un'intesa l'attrice Olivia Deovillant la Melania del film a questo proposito parla di interminabili partita battaglia navale dove Vivian e Gable si sfidavano e dove sembravano andare d'accordo ma ogni qualvolta dovevano girare una scena insieme Vivian letteralmente andava in crisi perché Gable soffriva di una forma piuttosto grave di gengivite infiammatoria che gli aveva fatto cadere tutti i denti e quindi oltre a portare una dentiera l'attore soffriva di alitosi anche se i più maligni sostenevano che Gable per indispettire Lali mangiasse dell'aglio crudo ogni volta che avevano una scena insieme vero o no sta di fatto che per Vivian le scene di baci erano un vero supprizio e pare che alla prima scena di bacio insieme Lali svenne per l'alito pestilenziale di Gable tutti lì per lì pensarono ai corsetti troppo stretti ma quando ripeterono la scena Vivian svenne nuovamente al punto che Oseznik sospettò fosse incinta Vivian lo fulminò con lo sguardo e gli disse no non è questo è che lui ha un alito mefistoferico da quel momento a Gable fu imposto di masticare mentine ogni volta che si doveva girare una scena d'amore e quando si poteva evitare di girare insieme come nelle scene di ballo veniva usata una controfigura lo so vi è appena crollato un mito il film nonostante la durissima e lunghissima lavorazione fu un successo strepitoso che ripagò ampiamente i 4 milioni di budget spesi si stima infatti che il film abbia incassato 400 milioni di dollari Via col vento è senza dubbio tra i film di Hollywood più iconici e famosi dell'intera storia del cinema e a un primato ancora ineguagliato e il film più visto di sempre e chissà cosa avrà pensato Gary Cooper di questo successo visto che aveva rifiutato con sdegno il ruolo di Rhett prevedendo sarebbe stato il più grande flop della storia ma Via col vento detiene molti altri record fra cui il film più lungo ad aver vinto l'Oscar come miglior film e Hattie Matt Daniel è stata la prima attrice afroamericana a vincere un Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo iconico di Mami peccato che per le stupide leggi razziali vigenti in Georgia l'attrice non potè partecipare alla prima di Atlanta né ritirare il suo Oscar come avrebbe avuto diritto di fare ma questa è un'altra storia ah a proposito di Oscar il film ne vinse addirittura 10 tra cui quello di miglior attrice protagonista che andò proprio a Vivian Lee ma soprattutto Via col vento renderà Vivian Lee una vera icona e star di Hollywood etichetta che rifiuterà sempre dirà io non sono una star io sono un'attrice le star durano poco le attrici sono per sempre il grande successo di pubblico di Via col vento in qualche modo oscurò il successo del suo partner di vita Lawrence Olivier anche lui negli Stati Uniti per rincorrere un successo che faticava ad arrivare e che invece per Vivian fu immediato Lawrence rimase estasiato dal film ma fu frustrante per lui constatare quanto immensa fosse Vivian come attrice di cinema molto più di quanto lo fosse gli stesso sì insomma il rapporto fra Olivier e la cinepresa non sarà mai idilliaco mentre Vivian letteralmente bucava lo schermo nel 1940 sia Lawrence che Vivian ottengono il divorcio dai rispettivi coniugi e finalmente si sposano si trasferiscono nella splendida magione di Notley Hubby nel Buckinghamshire a Notley Hubby non sono mai soli hanno sempre qualche amico del mondo del cinema o qualche intellettuale che viene a trovarli Lawrence e Vivian diventano il re e la regina dell'alta società inglese e la loro unione sembra benedetta da Dio sembrano fatti per stare insieme entrambi magnetici divertenti accattivanti nel 1944 Vivian gira il colossal Cesare Cleopatra la sua è una Cleopatra passionale fiera e intensa durante la lavorazione del film scopre di essere incinta ma non è una gravidanza destinata a durare perché durante una scena dove doveva correre a causa di un pavimento particolarmente scivoloso cade per terra e perde il bambino quell'evento la distrusse mentalmente da prima cadde in una profonda depressione a cui però poi subentrò un'inarrestabile iperattività che la portava a svegliarsi alle 4 di mattina facendo ciò che amava fare di più spostare mobili organizzare le giornate per sé i suoi amici fare giardinaggio ballare cantare durava qualche giorno poi cadeva di nuovo in un profondo stato di apatia ma era soprattutto il suo umore a cambiare in maniera così repentina che chi era con lei ne rimaneva sempre sconcertato poteva passare dall'essere tranquilla e amabile e accogliente con i suoi ospiti a momenti in cui era preda di violente attacchi d'ira dove tremava e imprecava contro tutte e tutti senza riuscire a controllarsi erano i chiari sintomi del suo disturbo bipolare episodi talmente devastanti che spesso Vivian non ricordava di averli vissuti ed era tanto il suo imbarazzo che a tutti chiedeva chi ho offeso a chi devo chiedere scusa a chi devo scrivere per chiedere perdono fu un anno tremendo e a fatica riusci a finire Cesare Cleopatra ma tutto questo al pubblico era assolutamente celato per tutti Vivian e Lawrence continuavano ad essere la coppia d'oro nel 1948 Lawrence Olivier venne nominato cavaliere dalla regina Elisabetta acquisendo il titolo di Sir Lawrence Olivier i coneggi partirono per un tour di sei mesi in Australia e Nuova Zelanda quasi fossero davvero una coppia reale un tour massacrante con un programma serrato che li espose più di quanto avrebbero voluto presenziarono infatti in varie occasioni pubbliche fecero discorsi salutarono capi di stato e ovviamente recitarono nei loro cavalli di battaglia le opere shakespeariane Otello su tutti quel tour estenuante però li consumò totalmente e anche il loro rapporto ne risentì moltissimo i due negli ultimi mesi di tour litigavano costantemente e Vivian veniva spesso sostituita durante le repliche perché a terribili attacchi di iperattività e insonnia seguivano sempre periodi di forte letargia la litigata peggiore fu quella avvenuta nella città di Chris Church quando Vivian si rifiutò di salire sul palco perché non trovava le sue scarpe non finì bene perché Olivier la schiaffeggiò davanti a tutti schiaffo però che venne prontamente ricambiato i due ancora scossi salirono sul palco lei con delle scarpe prese in prestito e fecero la loro performance perfetta come sempre ma dentro di loro qualcosa si era rotto i suoi continui cambi di umore avevano messo a dura prova la resistenza di Olivier che per quanto la amasse con tutto se stesso non sapeva più come gestire quella situazione non erano solo gli sbalzi d'umore a minare quel rapporto ma anche la passione segreta di Vivian per un giovane e promettente attore Peter Finch conosciuto in Australia i due ebbero una relazione tumultuosa e particolarmente sensuale e una volta tornati in Inghilterra le cose precipitarono velocemente un giorno Vivian disse al marito le parole che egli mai avrebbe voluto sentire non ti amo più Larry era iniziata così una crisi che non si sarebbe risolta mai e poi arriva lei Blanche Dubois di un tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams il personaggio forse più controverso intenso sofferto e lacerante fra quelli interpretati fino a quel momento e Vivian in quel personaggio tormentato si immerge totalmente con tutta se stessa Blanche e Vivian diventano una cosa sola da lì in poi niente sarà più come prima per la grande attrice inglese a posteriori potremmo dire che se Vivian avesse avuto dei saggi consiglieri con i suoi problemi di depressione maggiore disturbo bipolare avrebbe dovuto rifiutare di interpretare un personaggio che soffriva esattamente come lei certo non avrebbe avuto indietro una straordinaria interpretazione ma forse avrebbe evitato che Vivian precipitasse negli abissi della sua mente senza poter più fare il ritorno o forse chissà sarebbe accaduto comunque ma la storia non si fa né con i sé né con i ma e Vivian inizia un'avventura affascinante e pericolosa a caccia dei demoni di Blanche Dubois una donna che cadrà nel vortice della sua mente fino a estranearsi completamente dalla realtà la prima Blanche di Vivian è quella sul palcoscenico nella pista teatrale del drammaturgo americano diretto dallo stesso Lorenzo Olivier ed ebbe un tale successo che nel 1951 venne ingaggiata anche per la versione cinematografica firmata dal regista Elia Kazan a fianco di un attore emergente un giovanissimo Marlon Brando di cui abbiamo parlato trovate la sua storia nell'altro canale quello dell'angolo del crimine nel ruolo di Stanley Kovatsky ruolo che lo stesso Brando aveva interpretato nella versione di Broadway le cose sul set specie con il regista Elia Kazan non furono mai idilliche Kazan la tollerava a malapena e solo alla fine delle riprese riconobbe il suo enorme talento come attrice la sua straordinaria toccante e commovente interpretazione di Blanche Dubois le varrà il secondo Oscar della sua carriera i colleghi sul set ricordano una Lee sempre euforica e piena di energie che trascorreva le notti in giro per feste flirtando con chiunque e che nel weekend mai paga invitava tutti a casa per continuare a far festa era di certo nella sua fase maniacale ma non è solo quello Vivian Lee era quel genere di attrice che rimaneva intrappolata nei ruoli che interpretava e chiunque le stava intorno non poteva fare a meno di osservare quanto Vivian non riuscisse a uscire dal personaggio anche in momenti in cui avrebbe potuto rilassarsi ed essere semplicemente se stessa in altre parole Vivian era Blanche e lo sarebbe stata per il resto dei suoi giorni nel film del 1954 la pista degli elefanti a ripresa appena iniziata ebbe un terribile crollo mentale in quel film tra le altre cose recitava insieme al suo amante Peter Finch non è chiaro cosa abbia scatenato l'ennesima fase maniacale ma le cronache raccontano che Vivian divenne fisicamente pericolosa e aggressiva proprio nei confronti di Finch con l'attrice in quelle condizioni le riprese furono un disastro sul set si respirava un'aria pesante perché le sue intemperanze erano intollerabili e rendevano il clima è sacerbato il produttore decise così di chiudere la produzione in Inghilterra e di spostarla negli Stati Uniti sperando che il cambio di clima e di ambiente ma soprattutto di cast giovasse a Vivian ma non fu così al punto che dovette rinunciare al film al suo posto verrà ingaggiata una bellissima e ancora molto giovane Elizabeth Taylor Vivian viene ricoverata e subirà dei trattamenti molto invasivi tra cui purtroppo diversi elettroshock che la debiliteranno tantissimo trascorrerà la convalescenza a Notley Abbey assistita da un'infermiera racconta un'amica che era andata a trovarla che non parlava non piangevano non sorrideva non la riconoppe neanche a dire il vero l'unica cosa che riusciva a fare era stare seduta sul prato e con le mani scavare la terra un'immagine che mi ha intrestito moltissimo sembra quasi voler far della speculazione ma se Vivian avesse vissuto i giorni nostri la sua vita sarebbe stata diversa il suo disturbo sarebbe stato preso seriamente si sarebbe curata per tenere a bada il suo umore avrebbe avuto uno stuolo di persone che si sarebbero frapposte fra lei e il mondo esterno ma erano gli anni 50 e fra Vivian e il mondo fuori non c'era nulla e nessuno ha visto quanto stesse davvero male quanto le intemperanze non fossero dovute al suo caratteraccio non erano capricci da diva erano richieste di aiuto che in pochi erano riuscite ad ascoltare Lawrence ci aveva provato con tutto se stesso ma ogni giorno un pezzo alla volta si allontanava da lei e sebbene al culmine delle sue tremende crisi d'ira dove lo insultava e lo denigrava lui fosse lì fisicamente con la mente con il cuore egli era lontano da lei un giorno Lawrence richiese l'aiuto degli innumerevoli ospiti che sempre sostavano a Notley Abbey Vivian lo aveva picchiato perché lui non si era concesso a lei sì perché Vivian era anche preda di un insaziabile appetito sessuale che Lawrence non poteva sempre soddisfare una situazione ormai senza via d'uscita ma che dall'esterno continuava ad apparire al massimo del suo splendore il loro sodelizio artistico non cessa di continuare specie per quanto riguarda il repertorio shakespeariano insieme portano in scena la dodicesima notte la critica però distrugge la performance di Vivian si dirà la lì ha una voce troppo sottile non abbastanza presenza scenica che per una che con la sola presenza riusciva a riempire il palcoscenico era una critica oltremodo severa la seconda opera portata insieme Macbeth invece ha un successo clamoroso e Vivian nel ruolo di Lady Macbeth ci offre una performance davvero straordinaria come solo una grande attrice saprebbe fare nel 1956 Laurence Olivier si lancia in un'altra avventura cinematografica hollywoodiana con la diva delle dive Marilyn Monroe che venne fino a Londra per girare la pellicola Il principe e la ballerina che lo diciamo subito fu un flop clamoroso ma non è di questo che voglio parlare ma di come abbia preso Vivian la presenza sul set insieme al marito di un'attrice così amata famosa e indubbiamente molto bella e anche più giovane di lei piccolo spoiler non bene Per attirare l'attenzione su di sé a pochi giorni dalle riprese Vivian annunciò una gravidanza nessuno seppe mai se questa notizia fosse vera o no perché Vivian perse il bambino quasi subito L'insuccesso del film con la Monroe e le continue crisi maniacali della moglie portarono Olivier alla decisione di lasciare Vivian ma fu un episodio in particolare a fargli prendere quella decisione necessaria Una notte Vivian face scoppiare una lite furiosa Laurence stufo marcio la prese di peso e provò a gettarla sul letto ma nel farlo Vivian andò a sbattere il viso contro lo spigolo di una cassettiera che era vicino al letto e quasi non perse un occhio il giorno dopo Vivian durante un'uscita pubblica si mostrò con l'occhio coperto da una benda nera non era più possibile vivere sotto lo stesso tetto il loro amore ventennale che fece sognare generazioni di donne e uomini era finito i due formalizzeranno il divorzio nel 1960 Olivier si sposerà nuovamente con un'attrice britannica che diventerà molto famosa negli Stati Uniti Joan Plowright ovviamente la povera Joan dovette subire lo scotto di essere la terza moglie dopo l'immensa Vivian Lee che pensò bene di addossare su Joan la colpa della fine del loro matrimonio lanciando su di lei una campagna denigratoria e gratuita e appellandola come mistress che può significare amante ma anche donna di facili costumi dopo la separazione Vivian si rifugia nella loro casa londinesa a Itos Square nel bellissimo quartiere di Belgravia lì vivrà per i successivi sette anni non era felice perché non smise mai di amare Lawrence ma alternava momenti di diciamo così serenità a momenti di incredibile e incontenibile vitalità anche sessuale al punto da ritrovarsi ad avere rapporti occasionali con gente totalmente a caso più volte al giorno e nei luoghi più disparati insieme a lei in questo ultimo pezzo di vita quello che fu un buon amico di Vivian e Lawrence Jack Mary Vale che le starà accanto fino alla fine una fine che per Vivian arriva troppo presto a 53 anni non ancora sazia di vita eppure con alle spalle un'esistenza piena a tratti felice a tratti insopportabile ma piena e un indimenticabile grande amore a ucciderla sarà un violento attacco di tubercolosi malattia che aveva fin dal 1944 e che quasi l'aveva uccisa ai tempi di Cesare Cleopatra e che la colse nebbe il mezzo delle prove della sua ultima fatica a teatro Vivian che era sempre stata sottile si fece ancora più piccola e fragile i medici che la visitarono pochi giorni prima di morire le chiesero lei sa il suo nome e lei rispose ma certo io sono Blanche Dubois Blanche e Vivian erano davvero una cosa sola muore l'ottoluglio del 1967 per un edema polmonare a trovarla e Jack che di ritorno dal teatro la trovò sul pavimento tra la camera da letto e il bagno che probabilmente aveva cercato di raggiungere il destino volle che proprio in quel momento Olivier fosse ricoverato per un tumore alla prostata ma non appena seppe della morte di Vivian firmò per le dimissioni e raggiunse Eton Square e mi piace pensare che lì ebbero il loro momento di pace e amore sublimato nella morte Vivian era finalmente libera adesso poteva riposare in pace ai suoi funerali celebrati a Trafalgar Square moltissime personalità del mondo dell'arte e della cultura moltissimi amici e tanta tantissima gente comune il suo pubblico in un'intervista del 1983 Lorenzo Livre disse era seducente e nel modo più perturbante che avessi mai incontrato il lampo di dignità che c'era in lei e che rendeva schiava l'ardente schiera dei suoi ammiratori ed eccoci alla fine di questo video io vi ringrazio per la grandiosa accoglienza a questo nuovo canale non vedo l'ora di portarvi altre fantastiche biografie iscrivetevi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e ci vediamo ad Hollywood Boulevard